Qual è la situazione generale degli ospedali in provincia a oggi? Sono arrivata poco dopo il giugno praticamente perché ho preso servizio di fatto il 28 di giugno e rispetto all'andamento epidemico quello che si stava osservando a livello generale era una fisiologica riduzione di quelli che erano i contagi e anche gli accessi e la pressione in ospedale cosa che peraltro si era osservata anche il periodo precedente ma poi c'è stata una nuova ondata quello che ho trovato dal punto di vista proprio organizzativo ospedaliero è stata un'ottima professionalità nella capacità proprio di programmare e gestire sia la situazione di crisi e di emergenza e sia poi ovviamente la difficoltosa ripresa delle attività perché la necessità era quella di mantenere in parallelo ossia i percorsi per i pazienti residuali con Covid che i pazienti invece che dovevano necessariamente essere recuperati o comunque gestiti dal punto di vista clinico per patologie non legate al Covid è un'azienda grande, abbiamo degli ospedali che hanno due sedi di idea di primo livello e poi tre pronto soccorso che fanno un'ottima attività abbiamo riaperto ieri pronto soccorso di Tortona e quindi direi che complessivamente nonostante la fatica da parte degli operatori che ovviamente hanno accumulato tutta la stanchezza di questi mesi la difficoltà di, ripeto, conciliare quella che è l'attività Covid rispetto a quella no Covid e la carenza di risorse umane che ormai è una situazione purtroppo generalizzata in Italia direi che è un'azienda che è estremamente reattiva e pronta nel rispondere a quelle che sono le esigenze del territorio quindi là dove è possibile finora e non credo che avrò modo di smentirmi ho trovato la massima disponibilità sia all'interno da parte degli operatori che devo dire proprio dalle istituzioni esterne e quindi le premesse direi sono ottime per una ripartenza il nostro piano di recupero è stato predisposto, è in corso quindi abbiamo di fatto una programmazione di riapertura delle attività chirurgiche dei progetti di potenziamento su alcune sedi sia in ambito ospedaliero ma anche territoriale